Ciao a tutti e bentornati su Nisse ASMR Torno con un nuovo video Questa volta non dopo due mesi ma dopo due settimane sto migliorando Vi assicuro che prossimamente ce ne saranno ancora di più e ancora più spesso E stavo quasi pensando di fare magari una maratona a Natale Una sorta di calendario dell'avvento Ecco, non so se dal primo dicembre al 24 Ma comunque magari, non so, poi vediamo come organizzare la cosa In qualità E niente, volevo ritornare a leggere il libro di Jonas Nelson Che tanto stiamo apprezzando negli ultimi video E io vi ringrazio E se non siete iscritti al canale e appunto siete nuovi Vi piace l'ASMR generale ma soprattutto Whispering, Audible, Tracing, il suono delle pagine E o semplicemente volete rilassarvi con l'ascolto di una storia Insomma, siete al posto giusto e vi invito a iscrivervi A lasciare anche un like ed eventualmente commentare Su ciò che vorreste vedere in futuro E inoltre se volete supportare il canale Vi ricordo come sempre che in descrizione lascio la Amazon Wishlist E le donazioni in paypal Se mai qualcuno volesse E nulla Prima di tutto poi vi scuso per le unghie Soprattutto per queste due che sono distrutte Ho fatto delle cose, cioè me le sono fatte di recente Il giorno dopo già distrutte E non ho avuto tempo oggi di sistemarle E nulla Comunque io direi di iniziare, iniziare, iniziare Allora, siamo arrivati al capitolo 20 Dopo quel pasticcio con il negozio della Croce Rossa Fu deciso di percorrere la strada che costeggiava il lago di Alcassone Sul lato sinistro E proseguire il viaggio verso sud Senza avvicinarsi troppo alla stessa cittadina Fu così che il pranzo anticipato Consistente in hot dog e pure di patate Fatta con le buste Acquistate in una sezione di servizio Dopodiché tutto procedente tranquillo Siena quando raggiunse la periferia di Asselcom La scania settentrionale Arrivati lì a darse l'assassino Nelò che voleva ricarsi alla ripetita statale Delle collecite al momento Che cominciava a soffrire per la mancanza di quel vino Che gli permetteva di tenersi in contatto con Gesù Oltretutto fino a quel momento Non era riuscito a trasformare la bottiglia d'acqua disorgente Trovata dal campione in qualcosa di bevibile Ma come si suol dire La pratica rende maestri Il pastore che era subentrato alla guida Non era contento Della richiesta del perlomicida Aveva preferito lasciarsi alle spalle molti più chilometri Dopo il disastro di Oago Prima di azzatarsi A fermarsi in un altro centro cittadino Comunque Veccio come lui Le chiedeva perché una cosa era certa Veccio di Anders al sassino C'era solo Anders al sassino lucido e astemio Anche il responsabile della reception protestò Più o meno per lo stesso motivo Al più amicida Fu affidato Il compito di nascondersi Il più possibile Fu dal piccolo camper Per qualche scuro motivo Era rimasto seduto per un po' Intento parlare a una bottiglia d'acqua Mentre il responsabile della reception Si sarebbe occupato Per correre con il prevedo del citto All'interno del centro commerciale Dove si trovava la rivendita del colice Il trattore era davvero breve Perché il pastore Aveva avuto la fortuna Di riuscire a parcheggiare Proprio davanti Torno subito Disse il responsabile della reception E vedete di non scendere dal camper A proposito Che tipo di vino vuoi Fa tu A patto che sia rosso E che abbia un po' di vigore Io e Gesù Non siamo schizinosi Su questo genere di cose Non scelacquiamo via i soldi Con la comunione inutilmente Meglio pensare A coloro che Va bene va bene Dallo corto responsabile della reception Prima di incamminarsi Non molte settimane prima Anders l'assassino L'aveva preso dal pastore E le vietà del giugno Erano imprescutabili Quindi quando sperciò fuori D'antraverso la tendera Che copriva il finestrino Posteriori laterale del camper Mi rende conto Di quanto fosse magnificamente vero Perché meno di cinque metri da lui Non c'era forse una soldatessa Dell'esercito della salvezza Piazzata in modo strategico Davanti a una rimedita D'alcolici Tanto ben frequentata Se ne stava lì in piedi Con il suo E la matanoia Stretto l'umano Arganellando fatica Qualche coronate tanto in tanto Il pastore sedeva al volante Pensando ad altro Era del pericolo Silenziosamente D'antraverso l'assassino Ho preso una quantità di denaro Pensa poco identica Alla volta precedente Ma per l'antilata Dal sacchetto di plastica Alla stazione in servizio Ho socchiuto la porta del camper Ricorandogli che Il pastore Non si accorgesse di niente Poi apprezzo a gesticolare Con le mani In direzione della soldatessa Fino a quando Quest'ultima Si accorse di lui Fortunatamente Senza dare l'impressione Di aver riconosciuto L'ombo pericolosa di Svezia Per questo motivo La donna si avviò tranquilla Verso il veicolo Nell'istante In cui si rese conto Che lei era la persona Con cui voleva entrare in contatto Con il signore Che le comunicava Usando il linguaggio dei segni Quando si trovò vicinissimo a lui Andres l'assassino Poteva finalmente sussurrare Attraverso la porta Aperta a metà La ringrazia Per il lavoro Che svolgeva il signore A servizio del signore Poi le consiglia Un sacchetto di plastica Con dentro i soldi Andres l'assassino Parve che la soldatessa Dell'esercito della salvezza Visse un'era stanca e sciupata Sicuramente Ho bisogno Di una parola di conforto Riposa in pace Le disse Con fare benevolo Ma con tono di voce Troppo alto Prima di richiudere la porta Riposa in pace Al pastore Seduta al volante Fu sufficiente Girarsi per capire la situazione Rimando l'impina Dopo della scena Non è rimasto Ancuna tipica Quanto meno l'espressione Di un'anzia La soldatessa Dell'esercito della salvezza Che ritrava parcollando Dopo aver visto Il contenuto del sacchetto Che aveva appena ricevuto in tono Rimando l'impina Per la terza volta Quando la suddetta donna Andò a sbattere Contro il responsabile Della reception Che stava arrivando Con in mano Due confezioni Contenente il vino Per la comunione Le bottiglie sopravvissero Il responsabile Della reception Chiese scusa La soldatessa Cosa stava succedendo La signora Non si sentiva bene Con il momento Sentì la voce Del pastore Previene Dal finestrino Anteriore del camper Fregatene della vecchia Monta subito L'evicente Ha colpito ancora Esattamente a 500 km A nord est Di Hasselhoff Un imprenditore Capirava nel settore Delle vendite Stava discutendo Con la sua compagna Entrambi Come la maggior parte Del paese Avano potuto leggere Di articoli Dedicati Al primo omicida Che era sanito Dopo essersi intascato Con l'inganno I soldi Del mondo criminale Il concessionario D'auto E la sua Legittima metà Appartenevano A quella categoria Di coloro Che erano stati fregati E probabilmente A quella di che L'avrebbe lasciata Passare liscia In parte Perché era insito Alla loro natura E in parte Perché Oltre al denaro Scomparso Era stato rubato Un loro camper Che ne dice Se lo scordiamo Un pezzetto alla volta Perdendo dal passo E proseguendo Verso l'alto Propose colui Che tra la malavita Veniva chiamato Il conte Intendi dire Che in pratica Li tagliamo via Un po' di carne Alla volta Molto lentamente Mentre ancora in vita Domando Su contessa Più o meno Non mi sembra Una brutta idea Però a fatto Che vi prenda Parte anch'io Ma certo Mia cara Risposto il conte Non ci rimane Altro Che trovarlo Qui inizia La parte Seconda Una seconda Attività commerciale Sui generis Vediamo quanto dura Questo capitolo Abbastanza breve Dopo gli episodi Della Croce Rossa L'esercito Della salvezza Il pastore Punto nuovamente Verso nord Dopo Vago E Asalom Invece di proseguire Per Malmo Che sarebbe stato Il luogo più logico Per tendere un'imposcata Da parte di quelli Che presumibilmente Stavano dando Loro la caccia Inboccare Una direzione opposta Questo era Il motivo Per cui Ora il pastore È responsabile Da reception Per i omicidari Diretti Verso tutta Altra meta Il traietto Su un mantello E' sopposto Sobretto Della lice Andrata L'assassino E' la paruta Rossanto E' un buco In camper Qua Il pastore Svolto in un'area Svolto in un'area Di sosta Che si trova Accanto a un lago Di qualche parte Della Svezia Al conviene Tra l'Oland E la Vaster Cotland Si fermò E dopo aver sventuto Il motore Indico Un punto vicino All'acqua Attrezzato Per picnic E barbecue Riunione Disse parlando Piano piano In modo da non svegliarle Andrata L'assassino Il responsabile Per la reception A lui I due Si diressero Perciò All'acqua E poi Si accomodarono Dello sulla pietra Accanto alla graticola Dichiarò Aperta la seduta E sortì Il pastore Sempre a fonce Molto A voce bassa Mentre controllava Che il proimicità Convertito Non potesse Sentire dal camper Indichiaro Che la sua testa È stata convocata Secondo le Modalità Prescritte Sul solo Responsabile Della reception E per un sottola Di ferito Mentre Dichiaro Che hanno Dello Dello Sulla critica La richiesta Di comparire Che cosa Risposte il pastore Come facciamo liberarci Di quella piega Che sta addormento Nel camper Senza mettere Arrepentati La nostra vita E preferibilmente Mentre i nostri soldi Continuano a essere tali Noi Non diamo Il salsiasino Né di qualche organizzazione Che si occupa Di bisognosi Né di Siete children O di chi Troveremo Tra i piedi Oran poi La prima idea Probabile Che venne loro a mente Quella di assoltare Un killer Con il compito Di far sparire Il proprio collega Il problema Che era Troppi rappresentanti Della categoria Appartenevano Alla cerchia di persone Che probabilmente Erano state fatte Fesse dal pastore E da responsabile Della reception Quando avevano Un cito Servendosi Del nome Di Anders Assassino No Assoltare un killer Per uccidere il killer Era troppo rischioso In un certo senso Persino immorale Di colpo Al pastore Venne in mente Una soluzione più facile E se molto più semplicemente L'avessero piantato in asso Da qualche parte Mentre scendeva dal camper Per andare a cambiare L'acqua al merlo Di fronte alla pianta Beh Comentò il responsabile Della reception Questo caso Ne conseguirebbe Che Ci siamo liberati di lui Conservando tutti i soldi Aggiunse il pastore In fondo Non era così difficile E uno C'ha avuto l'occasione Di farlo Al negozio Della Croce Rossa Pago Se ci avessero pensato prima Torno subito Ha esclamato Andres Assassino Prima di lasciare il camper Il posto L'errore responsabile Della reception Hanno avuto Ben trenta secondi A disposizione Per meditare Trare le debite Conclusioni E sparire Trenta lunghi secondi Si resero conto Nove ore dopo La riunione Era finita La decisione Presa all'unanimità Fu quella di non compiere Al concesto affrettato Rimanerli dove erano Stare calmi per tre giorni Seguire quello che avrebbero Riportato in mass media Sugli avvenimenti di Fago E su quanto Andres Assassino Fosse riuscito a spaventare Nuovamente la nazione Su quanto Le loro identità Fossero ancora Protette in generale Sul rischio Che correva Di essere braccati E di conseguenza Agire sulla base Delle conoscenze acquisite Mirando l'obiettivo Prefessato Che era quello Di separare fisicamente Se stessi Le valigie Dell'individuo Che adesso stava Rommando A tutto spiano Dentro il camper Era possibile Rimanere parcheggiati In quell'area Senza essere visti Dalla strada I viveri Se li potevano procurare Dalla stazione di servizio Che si trovava A due chilometri di distanza L'esponsabile Della reception Si offrì Di andarci a piedi Mentre il pastore Andres Sotto controllo Andres Assassino Con il compito principale Di impedirli Di teleguarsi Nel bosco Regalare il pillone o due Al primo che passava lì Allora Direi di fermarci Qui abbiamo letto Un pochino oggi E nulla Se il video vi è piaciuto Vi ricordo ancora Di iscrivervi al canale Di lasciare un like E se volete supportare Il canale O a me Ci sono sempre Like in descrizione Per l'amazon Vigilista E per le donazioni People Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi Ci sentiamo presto Ciao Ciao